Di nuovo le vittime, i familiari delle vittime della strada a chiedere giustizia. Sì, noi purtroppo siamo costretti a scendere in piazza e mettere in pubblico il nostro dolore e sinceramente non vorremmo arrivare a tanto, però per i nostri cari, per quante vittime della strada che purtroppo non sono più tra noi, noi siamo disposti a fare questo ed altro. E' inaccettabile che una società moderna ancora siamo costretti a chiedere che vengano puniti con pene severe chi commette questo tipo di reato. Chi commette questo tipo di reato si macchia di omicidio stradale ed è bene e giusto che la giustizia nei suoi confronti faccia il suo corso. E non solo, ma sarebbe opportuno anche applicare l'ergastolo della patente perché chi ha dimostrato di non essere in grado di mettersi alla guida responsabilmente non è tenuto più a guidare e a mettersi su strada perché è un pericolo pubblico per se stesso e per gli altri purtroppo.